È interconnesso al cervello, non abbiamo scelta. Deve esserci un altro modo. È impossibile prelevare un campione senza distruggere l'ospite. L'ospite è una bambina, non è una provetta. Cosa credi che io... Mi è chiara questa situazione? E sei disposto a ucciderla? No, sono disposto a sviluppare un vaccino che salvi milioni di persone. Quante luci sono morte, per molto meno. È stata una loro scelta. Vuoi la mia opinione o semplicemente hai già deciso? Sto solo cercando il tuo appoggio. E se fosse Abby? Senti, pensa a ciò per cui abbiamo lottato, a tutti i sacrifici, alle atrocità. Cose che avrebbero un senso con questo gesto. Ma se fosse tua figlia, che cosa faresti? Ti ho portato la cena. Grazie, tesoro. Senti, Marlene... Fallo. Grazie. Vado a dirlo a Joel. Perché? Hanno attraversato il paese insieme. Lui deve sapere. Allora, buona fortuna. È la scelta più giusta. Allora, io vorrei che tu mi operassi. Allora, dovrei fare... Allora, dovrei two ovo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Joel, alzati. Joel, alzati, cazzo! Basta, ti prego! Ti prego, non farlo! Joel, ti devi alzare! No! All'inferno, pendejo. Oh, giuro che ti ammazzo! Wow, 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 che fai? Menti! Piazza Purina. No, no, no. Ci interessa, lui, e basta. Ma è rischioso lasciarli vivi. E chi se ne frega? Ha ragione. Meglio chiudere i conti. Se li uccidiamo, diventiamo come lui. Non hanno nessuna colpa! Sì, guarda la mia faccia. Fanculo la tua faccia. Dovevi sorvegliare il piano di sopra, come ti avevo detto. Spostati. Sta indietro. Calmati. Altrimenti... Diamo calmi! Jordan! Vuoi spararmi? Basta! Finiamola.